ciao a tutti quello che vi presento oggi è flick flick è un setter inglese di otto anni con pedigree è a posto con le vaccinazioni è maschio flick va molto d'accordo con altri cani femmina con i maschi va un po a simpatia è un cane da caccia ma fortunatamente non ha mai cacciato e politica empa non si prevede un affido a cacciatori quello che abbiamo bisogno per flick è un padrone che abbia a disposizione una casa con ampi spazi con un bel giardino e che abbia voglia di portarlo in giro a far lunghe passeggiate va molto bene in passeggiata al guinzaglio gli piace tantissimo nuotare andare al fiume ecco cerchiamo tutto questo per flick arturo un cucciolotto di otto mesi circa ormai ha raggiunto la sua taglia che è questa taglia medio medio grande essendo un cucciolo è un giocarellone gli piace morsicare tutto gli piace giocare gli piace camminare gli piace attirare l'attenzione va molto d'accordo con i suoi simili quindi non ha problemi con cani né maschi né femmine ignora i gatti quindi anche se avete dei gatti non gli danno fastidio per lui cerchiamo una famiglia che lo accudisca è un trovatello è stato trovato è arrivato qua in struttura curato sta benissimo adesso bisognerà aspettare ancora qualche mese per capire bene da accertamenti se non ci sono problemi legati all'età e nient'altro ciao Grazie a tutti Grazie a tutti